Lettura del Vangelo secondo Marco In quel tempo, seduto di fronte al tesoro, il Signore Gesù osservava come la folla vi gettava monete, tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro «In verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Faccia bene, amici, in questa nostra riflessione sulla liturgia della parola del giorno del Signore, decima domenica dopo Pentecoste. La scena che il Vangelo descrive è una scena molto essenziale e scarna. Il Vangelo è brevissimo. Gesù si trova nella parte del Tempio riservata alle donne dove c'erano dei raccoglitori, c'erano circa 13 raccoglitori di denaro, di offerta e quando uno si presentava a dare a secondo dell'intenzione e a mettere il suo obolo nella cassetta delle offerte dove l'intenzione era precisa e specificata, il sacerdote che era lì vicino ad alta voce ripeteva quello che l'offerente aveva detto e quindi Gesù probabilmente aveva saputo quello che è andato a finire nelle casse del Tempio, quello che la donna, la vedova, aveva messo nella raccoglitore delle offerte. La scena poi si conclude con un'espressione, una lode da parte del Signore nei confronti di questa donna. Qual è il messaggio che dobbiamo raccogliere e ricevere? Innanzitutto l'episodio sottolinea ancora una volta la predilezione e la simpatia che Gesù ha nei confronti dei poveri. Inoltre Gesù mette in evidenza il contrasto tra la boria, tra il desiderio di vanagloria, l'ostentazione degli scribi e invece questa offerta umile, silenziosa, dimessa, quasi vergognosa della vedova. Aveva due spiccioli, il denaro sufficiente per riuscire ad arrivare a sera, per sfamarsi nell'arco della giornata, ma aveva dato più di tutti gli altri perché? Perché aveva dato tutto se stesso. Questa donna aveva dato e offerto al Tempio tutto quello che possedeva, che aveva, che gli era indispensabile per vivere, quindi tutto. Naturalmente questo forse avrà fatto scalpore, non si dice come reagirono gli scribi, ma senz'altro non avranno reagito bene come era loro solito. Però Gesù prende l'opportunità, coglie l'occasione di questo episodio per impartire un insegnamento agli apostoli. Forse Gesù stesso era simpatizzante verso questa vedova perché rispecchiava un po' se stesso, quello che era la sua vita. In fondo lui, Dio, si era svuotato, si era annullato, da ricco che era è diventato povero per noi, ha dato tutto per noi, fino alla morte in croce. Forse il Signore vedeva e rivedeva in questa donna l'opera, il progetto di salvezza che stava realizzando nella storia. Inoltre non bisogna dimenticare che a un certo punto Gesù dirà delle parole ben precise riguardo al Tempio. Distruggetto questo Tempio edificato da mani d'uomo e io in tre giorni lo riedificherò. E Giovanni, l'Evangelista, nota, parlava del Tempio che era il suo corpo. Ormai il suo corpo era diventato il Tempio del Signore. Tutte le altre case, gli altri edifici, il Tempio stesso erano luoghi, edifici inadatti, inadeguati a esprimere l'onnipotenza di Dio. Invece Paolo, parlando del corpo di Cristo, parlando della persona di Gesù, dice che in lui si realizza la pienezza della divinità, si presenta corporalmente la pienezza della divinità. Anche la prima e la seconda lettura ci parlano del Tempio, la prima lettura del Tempio di Salomone, che è stato consacrato. Salomone ha terminato questa sua grandiosa opera e a un certo punto dentro il Tempio innalza la sua preghiera a Dio Onnipotente. Considerare il nuovo Tempio, perché Gesù è il nuovo Tempio, è il vero Tempio di Dio nella storia, è il Tempio di Dio, è la presenza di Dio accanto a noi da duemila anni a questa parte. Ecco, questo risaltare la figura della vedova nel Tempio che ha dato tutto per Gesù diventa un'occasione per richiamare innanzitutto gli discepoli e poi noi stessi e tutti gli uomini che sono diventati i suoi seguaci a fare altrettanto come ha fatto questa donna. Questa donna ha offerto tutto dentro un Tempio inadeguato a maggior ragione di fronte al Tempio di Dio che siamo noi, scriverà poi Paolo, ma che è Gesù e siamo noi Tempio di Dio perché Gesù ci ha reso tali, ci ha fronte al nuovo Tempio di Dio, al Tempio di Dio per eccellenza, noi dobbiamo dare e donare tutto noi stessi, anche noi dobbiamo dare i nostri due spiccioli. Cosa vuol dire donare i nostri due spiccioli? Non donare denaro, magari anche quando c'è bisogno, ma donare tempo, energia, capacità, a donare quelle che sono a mettere a disposizione degli altri, le nostre doti, i nostri carismi, vuol dire donare come ha fatto questa povera e semplice vedova, senza la presunzione e la pretesa che gli altri ci applaudono, vuol dire donare gratuitamente, disinteressatamente, porre i nostri due spiccioli, le nostre capacità, i nostri carismi e i nostri talenti a servizio degli altri. Pace bene amici, a risentirci, alla prossima domenica.